Secondo la classifica pubblicata dalla Sole24ore, le multe nella città di Teramo sarebbero diminuite del 36%, ma il comandante della Polizia Municipale, Franco Zaina, informato della pubblicazione della classifica, smentisce così i dati resi noti. Sì, effettivamente sono aumentate di 600, perché nel 2013 abbiamo accertato 10.600 verbali, mentre nel 2014 ne abbiamo accertati 11.200. Questo sembrerebbe in controtendenza sull'articolo che è uscito sul Sole24ore, ma tengo a specificare che là si tratta di incassi, che è una cosa diversa dall'accertamento delle sanzioni. Diciamo che la negatività dell'anno 2014 riferita al 2013 è data da più fattori. Innanzitutto dall'introduzione del decreto del fare, che comunque ha previsto una riduzione del 30%, se comunque la sanzione viene pagata dentro cinque giorni. Quindi è chiaro che tutti gli automobilisti, molti, hanno comunque usufruito di questo decreto. Per di più dobbiamo sempre pensare alla congentura economica, che comunque fa sì che i cittadini sono sempre meno propensi a pagare. Inoltre la statistica dovrebbe essere sempre valutata anche rispetto al personale che si ha. Per cui è chiaro che se vi sono delle città in cui sono state fatte assunzioni, accertamenti comunque saranno di più. O se comunque si sono avvalsi nell'anno 2014 di sistema di rilevazione elettronica, così come sarà per Teramo, penso che anche Teramo sotto il profilo dell'incassato, il prossimo anno avrà comunque un dato sicuramente favorevole. Diciamo che siamo sempre intorno ai 12.000 accertamenti l'anno. Poi è chiaro che ci sono degli anni in cui comunque contribuiscono eventi, manifestazioni. Non in ultimo, ad esempio, pure nel 2014, tutta l'attività che abbiamo fatto vicino alla standa, ex standa, quando c'era l'occupazione, che per mesi abbiamo tenuto occupato delle pattuglie in Corso San Giorgio.